Oggi vi presentiamo l'intervento Elexia presso Metalchimica, azienda italiana lidera a livello mondiale nel settore dei contenitori plastici per uso speciale. L'intervento è diviso in due grandi fasi. Nella prima fase Elexia ha acquisito un impianto fotovoltaico da 1 MW già esistente e due trigeneratori da 500 kW elettrici ciascuno. Nella seconda fase, con un intervento di tipo ESCO, Elexia realizzerà un impianto fotovoltaico da 500 kW e un nuovo trigeneratore da 500 kW elettrici. La Metalchimica nasce da un'idea di nostro padre, l'ingegner Giovanni Sacchini, nel 1983. L'idea era quella di trasformare plastica per realizzare contenitori packaging ad alta rotazione consumo, ma anche ad alto contenuto tecnologico. Negli anni questa vocazione alla ricerca e sviluppo, questa vocazione al packaging evoluto, primario, industriale, è sempre più cresciuta grazie a investimenti continui. Al fine di essere competitivi a livello internazionale, ma anche a basso impatto ambientale, la Metalchimica ha investito su produzione di energia da fonti rinnovabili, quella fotovoltaica e quella in trigenerazione. Da qui è nata la ricerca sul mercato di un partner energetico. Ha individuato nell'Elexia il partner ideale, in quanto l'Elexia ha avuto un approccio sostanzialmente unico nel mondo dei partner energetici, che è stato quello di conoscere l'azienda, analizzare il problema, fare un audit energetico, ma non solo del presente del passato, ma soprattutto di comprendere lo sviluppo industriale futuro. Se oggi abbiamo centrato il 50% di autoproduzione dell'energia con il partner Elexia, andremo nel prossimo futuro a centrare il 70-80% di produzione di energia da fonti rinnovabili. L'Elexia ha avuto un approccio, una visione di lungo termine, tale per cui si è previsto anche lo sviluppo di futuri impianti di fotovoltaico e di trigenerazione. Con investimenti propri di Elexia, metalchimica, riacquista l'energia a dei prezzi convenuti, lasciando le risorse finanziarie libere per gli investimenti specifici nel core business, nella parte industriale produttiva. Elexia lavora a stretto contatto con il cliente, allo scopo di comprendere i problemi e trovare soluzioni. Il nostro approccio è di totale trasparenza e di partnership, puntando a un rapporto col cliente di lungo periodo. Il cliente evita di utilizzare la propria finanza in opere accessorie rispetto al core business, dedicando la propria attività finanziaria allo sviluppo dell'attività produttiva. Tutti gli investimenti e i costi delle operazioni sono a carico di Elexia, lasciando così indenne il cliente da qualsiasi owner finanziario. Metalchimica era alla ricerca di un partner e non di un fornitore. Elexia ha mostrato, grazie alla maneggiabilità e alla flessibilità, di essere partner nel lungo termine e accompagnare una metalchimica al raggiungimento dei propri progetti industriali. Grazie.